Salve a tutti! In questo video andremo ad attuare il sistema Synapse by System Roulette. Vi guiderò su tutta la sessione di gioco. Giriamo a vuoto la roulette. Torniamo le nuove vernieblate e rilevanciamoci, ma non trasforma poco capture. Attendiamo l'estrazione di un numero ripetente. Andiamo ad analizzare con il sistema Synapse Il 35. Andiamo a raddoppiare. Ora incrementiamo di 10 centesimi tutti e 5 i numeri. Ancora, sempre di 10 centesimi a numero. In questo caso, incrementiamo ulteriormente. Andiamo a raddoppiare. Incrementiamo ancora. Ancora, sempre di 10 centesimi a numero. Vittoria! Ora ripartiamo da capo. Giriamo a vuoto la roulette. Attendiamo nuovamente l'estrazione di un numero ripetente, riportato sulla tabella dei numeri estratti. Andiamo ad analizzare con il sistema Synapse Il 23, che ci indicherà i 5 numeri da puntare. Andiamo a raddoppiare. In questo caso, incrementiamo di 10 centesimi tutti e 5 i numeri. In questo caso, incrementiamo ulteriormente. Incrementiamo ancora. In questo caso, incrementiamo di 10 centesimi tutti e 5 i numeri da puntare. In questo caso, incrementiamo di 10 centesimi tutti e 5 i numeri da puntare. Incrementiamo ancora. Ancora, sempre di 10 centesimi a numero. Incrementiamo ancora. Vittoria. Vittoria! Ora ripartiamo da capo. Giriamo a vuoto la roulette. Attendiamo nuovamente l'estrazione di un numero ripetente, riportato sulla tabella dei numeri estratti. Andiamo ad analizzare con il sistema Synapse Il 36, che ci indicherà i 5 numeri da puntare. Andiamo ad analizzare con il sistema Synapse Il 36, che ci indicherà i numeri da puntare. In questo caso, incrementiamo ulteriormente. In questo caso, incrementiamo ulteriormente. Ancora, sempre di 10 centesimi a numero. Andiamo ad analizzare con il sistema Synapse Il 36, che ci indicherà i 5 numeri da puntare. Andiamo ad analizzare con il sistema Synapse Il 36, che ci indicherà i numeri da puntare. Andiamo ad analizzare con il sistema Synapse Il 36, che ci indicherà i numeri da puntare. Andiamo ad analizzare con il sistema Synapse Il 36, che ci indicherà i numeri da puntare. In questo caso, incrementiamo ulteriormente. Incrementiamo ancora. Incrementiamo ancora. Ancora, sempre di 10 centesimi a numero. Ancora, sempre di 10 centesimi a numero. Andiamo ad analizzare con il sistema Synapse Il 26, che ci indicherà i 5 numeri da puntare. Andiamo ad analizzare con il sistema Synapse Il 26, che ci indicherà i 5 numeri da puntare. Andiamo ad analizzare con il sistema Synapse Il 36, che indicherà i numeri da puntare. Andiamo a raddoppiare. Andiamo ad analizzare con il sistema Synapse Il 36, che indicherà i numeri da puntare. Ora incrementiamo di 10 centesimi tutti e 5 i numeri. Ancora, sempre di 10 centesimi a numero. Incrementiamo ancora. Andiamo a raddoppiare. In questo caso, incrementiamo ulteriormente. Ancora, sempre di 10 centesimi a numero. Incrementiamo ancora. Ancora, sempre di 10 centesimi a numero. Vittoria. Per chi fosse interessato al sistema? Leggere la descrizione. Se il video vi è piaciuto mettete like e condividetelo. E se il canale è di vostro gradimento vi invito ad iscrivervi. Grazie mille a tutti. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti